Sì, dopo ieri sapevamo che comunque questa Coppa Italia, nonostante gli infortuni e le difficoltà con cui siamo arrivate, poteva comunque andare bene. Quindi ci abbiamo messo il tutto per tutto, nonostante la panchina corta. Abbiamo giocato bene di squadra e i risultati si sono visti. Insomma, diciamo che useremo questa Coppa Italia per ritrovare quell'armonia e quel meccanismo che ci sta mancando da ormai un mese, così da essere pronti per i play-out e dare il medio lì, che sarà veramente dove conta. Secondo me i meccanismi dell'attacco. La difesa si è risistemata, ma ci manca più determinazione.